Come state? Bene, sono contento, mi sentivo, mi sentivo carichi e mi condizioni, mi fatevi un bel applauso. L'ultimo seduto è stato fatto nei cartelli. Bene, tra poco di leggeranno immagino, e non siamo pronti, siamo pronti per venire soltanto pochi istanti per ricordarvi che noi siamo qui nel 105 on the beach. Ci trovate su un lungo orario proprio Andrea Doria. Lì conoscete le dirette radiofoniche di Radio 105, tutto il giorno. Conoscete il divertimento, gli sponsor, ricevete i gadget, insomma, davvero il divertimento non manca nel 105 on the beach. E conoscete tutti i nostri sponsor, tra cui il main sponsor di Sto Banca, il gruppo Mediobanca. Certo, se viva come si dice in CERCIA. Certo, se viva come si dice in CERCIA. Conoscete tutti i�리, tutti i miei studenti. Certo, senza fine. Certo, sicilia, il 5 settembre li troverete? Alla notte che le anche di Salerno. E allora, grazie a tutti i miei studenti. E poi, ecco il treno di Militato? Presenta, ma vi ritagano il concerto dei femmelli. Certo. il 5 di settembre li troverete alla notte di Anco di Salerno e allora grazie a tutti i 5 di settembre presentano e vi ricallano il concerto dei femmelli Voi in, voi in Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!